Giornata della memoria a Subbiano con i bambini delle scuole, le quinte tutte nella sala consigliare a ricordare Ostilio e Fernanda Righi che salvano una bambina ebrea, giusti tra le nazioni, sono stati nominati così nel 2009. Sì, è proprio un orgoglio per i subbianesi, insomma avere anche nella storia, in questa triste storia comunque degli eroi che hanno avuto le loro origini proprio qui a Subbiano. È bello parlarne con i ragazzi perché fin da piccolini si possono educare alla generosità, all'altruismo e al coraggio. È un nome essere giusti tra le nazioni. La cosa con cui sono cresciuta io e mi hanno cresciuto sia me e mia cugina che siamo rimasti in due, è che quello che hanno fatto è normale, è qualcosa che dovrebbe essere fatto, un'iniziativa che dovrebbe, qualcosa che deve essere fatto indipendentemente da tutto, cioè l'aiutarsi, il pensare agli altri come se si dovesse pensare a se stessi. E quindi è un qualcosa che per noi, per la nostra famiglia era la normalità. L'abbiamo vissuta come una cosa normale, come un episodio che rientra nella giusta e corretta maniera di agire, di aiutarsi al di fuori delle diversità, dei razzismi, di qualsiasi cosa. E questo ora come allora, soprattutto ora. E questa è una cosa che i bambini vorrei che capissero. Non c'è diversità, non ci deve essere razzismo, siamo tutti quanti uguali e chiunque dica o proponga che non è vero, assolutamente bisogna opporsi. Ma non perché è qualcosa di eccezionale l'opporsi, è giusto opporsi, perché siamo davvero tutti quanti uguali. Servono questi esempi per far capire che in qualsiasi situazione, anche in quelle più difficili, dove si mette anche a rischio la propria vita, ma anche il proprio io in tutti i sensi. Questi ragazzi hanno bisogno di questi esempi proprio per mettersi anche in discussione tante volte e mettereci la faccia nel difendere certi valori che sono così importanti. Chiaramente i ragazzi di oggi che hanno avuto la fortuna, come anche la mia generazione abbiamo avuto la fortuna di non vivere questi momenti tristi, anche quando si parla comunque di guerre, rimangono sempre dentro alla televisione. E non è facile quindi mesettesimarsi in certe situazioni. Per cui questi esempi possono servire anche nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni umane che chiaramente anche loro possono vivere quotidianamente. Quindi nella difesa di un amico, nella difesa di una qualsiasi persona che viene oltraggiata, che viene chiaramente offesa, violentata, hanno bisogno fin da piccoli di vivere queste storie, che gli vengano raccontate, ma che gli vengano raccontate come storie vere e che possono fare la differenza nell'esistenza di tutti noi. Ma come ti sei sentita quando Ostilio e Fernanda Righi hanno salvato questa famiglia di ebrei? Ecco la nonna che ti ha raccontato. La nonna mi ha raccontato appunto che era una cosa, e questa è la cosa, scusa, è importante, è l'immediatezza del fatto. Cioè non c'è stato a pensare, non ci sono stati a pensare. Andava fatto e si è fatto. Cioè mia nonna immediatamente, quando si rese conto quello che stava succedendo, che stava arrivando questo squadrone di personaggi chiamati, fra parentesi, da abitanti del palazzo, questa è la cosa sempre più triste, che c'è sempre qualcuno dietro che aveva avvisato che c'era questa famiglia di due ragazzi, fondamentalmente, un padre e una madre, che figuriamoci erano persone assolutamente normali. Quando mia nonna, che era portiera, era custode del palazzo, si rese conto che stavano arrivando questa squadra per prenderli, fu la prontezza, questa è tipica di mia nonna, di mandare mio nonno su con l'ascensore ad avvertire e far scappare i grandi da una parte. La bambina che stava male, la Letizia che stava male, lei disse, no, nessun problema, via, dentro il letto con le altre mie figlie. Quando sono arrivati lì le personaggi è stata tutta una cosa, nell'immediato, cioè lei ha improvvisato proprio nell'immediato di dire bisogna salvarla e l'ha messa con le figliole, è mia figlia, fra l'altro disse pure che stavano male, che avevano la differita e così un po' di timore ad avvicinarsi troppo ai bambini malati e riuscì a salvarle, ma è stata proprio una cosa nell'immediatezza. Mia nonna ha sempre questo, ha detto, sono quelle cose che uno le fa senza pensarci, perché è giusto farle, ripeto, è giusto farle, non bisogna stare a pensarci, ok, si fanno e basta. Se vedi una persona che sta affogando, vai e la salvi. E' questo, è questo, il volerci bene l'un l'altro, capire l'importanza della vita umana, è questo. La foto che ho fatto mettere su è proprio sul terrazzo del palazzo dove sono avvenuti gli accadimenti. Lì a Vercelli, lì è il terrazzo, il terrazzo sulla sommità del palazzo. E diciamo, sono una foto di poco tempo dopo, perché lì mia madre avrà 7-8 anni, quindi sarà subito post-guerra quella foto lì. Una targa che ricorda questo anche al cimitero di Subbiano. Sì, è una memoria che chiaramente deve lasciare il segno, deve lasciare il segno perché è vero che siamo, quando poi si lascia il nostro percorso nella vita terrena, siamo tutti uguali, ma nella vita terrena qualcuno ha fatto la differenza, ed è giusto che questa differenza venga valorizzata, venga ricordata. È un segno per dire che finché siamo di qua qualcosa di buono lo possiamo sempre fare. Ringrazio a nome mia, di mia cugina, della mia famiglia, perché è un bel pensiero. Ecco, Dominga. Io ringrazio di cuore la signora Tiziana per averci regalato anche queste parole che comunque sono molto più ricche di emozioni e di particolari che ci fanno sentire ancora più vicina a questa storia che fortunatamente ha avuto un lieto fine. Sono state anche particolarmente belle perché è un gesto, condivido quello che ha detto, che andrebbe fatto senza pensarci. E quindi è proprio la normalità che ha reso a questo gesto che vi deve far pensare quanto sia importante aiutarsi gli uni con gli altri, senza pensare il colore, la faccia e la forma che ognuno di noi ha. E quindi a nome dell'amministrazione mettiamo questa targa, il ricordo dei suoi nonni e che siano esempio per tutti questi ragazzi nel compiere buone azioni. Abbiamo anche l'assessore alla cultura, si deve fare cultura della memoria. Ecco, la memoria e soprattutto mai l'indifferenza. Questa è la cosa importante. Assolutamente sì, la cultura non sarebbe tale, il tramandare comunque queste cose non sarebbero tale se non ci fosse sempre una forza di volontà dietro a tutto questo. La volontà di far sì che gli esempi di persone comuni, come ha giustamente evocato la signora poco fa, che vedevano in forma totalmente naturale poter compiere questi gesti, devono essere l'esempio perché da queste piccole cose, che poi sono state delle grandi cose, ciascuno di noi colga il meglio e far sì che ci si impegni tutti a metterci a disposizione di un viver comune. La causa è stata grande perché sappiamo benissimo le tante piccole storie che hanno contribuito a far sì che un dramma come quello non diventasse ancora più grande. Le esperienze che vi auguro che questi ragazzi possano fare nel corso della loro vita, anche in altri luoghi, quando saranno chiaramente molto più grandi, di potersi documentare ancora di più e continuare questo percorso che voi insegnanti avete avviato e avete con grande passione inculcato a loro, dà l'opportunità anche di vivere storie vissute, storie quotidiane che sono però quelle più semplici e che danno l'opportunità di apprendere meglio come da una gocciolina veramente si può fare il mare. E questo è un messaggio più grande che la famiglia Righi ha dato, credo, con quella loro storia. Quindi grazie alla signora, chiaramente grazie idealmente ai nonni e grazie a tutti coloro che hanno fatto un piccolo gesto e che sono meritatamente tra i giusti e tra le nazioni. Allora ragazzi, dove si mette? C'è il giusto! Giusti tra le nazioni, quindi questa è la medaglia proprio che è stata consegnata alla famiglia Righi in questo riconoscimento nel 2010, ma ricordiamoci che sono stati nominati proprio giusti tra le nazioni nel 2009. Quasi commovente averla a mano, penso, se uno pensa da dove viene e quindi dove loro sono arrivati, è veramente commovente, emozionante e penso che tutta la comunità di Subbiano debba essere fiera e portare avanti questo esempio di questi coniugi che nella loro normalità hanno fatto un gesto incomiabile e ce ne vorrebbero tanti di questi gesti oggi purtroppo. E vorrei tornare oggi nelle nostre scuole con dentro ai nostri cuori un insegnamento che dovrebbe e mi auguro che ci accompagnerà per il futuro quello di vivere in maniera armonica i rapporti con i nostri amici, con i nostri parenti, con tutta la nostra comunità, ma viverlo nell'insegnamento che abbiamo stamattina ascoltato, quell'insegnamento di rapporti veri, autentici, che vengono dai gesti proprio semplici, quotidiani. È con questo, allora, che noi torniamo nelle nostre classi, con questa ricchezza d'animo che non dobbiamo mai dimenticare, la memoria e l'insegnamento di cose semplici, di rapporti, di aiuti, di reciprocità. La giornata della memoria con i bambini della scuola primaria del plesso Righi Pertini, le quinte, è iniziata all'interno della sala consigliare del comune di Subbiano, proprio con un saluto, quello del sindaco, ma poi a seguire subito, dopo Ilaria Mattesini, Gliarubechi ha ricordato una storia che già aveva scritto nel 2018, in modo molto più ampio, molto più lungo, eccetera, ma qui doveva essere più breve per i bambini che erano all'interno della sala consigliare. Loro, pensando a questa giornata della memoria, soprattutto loro, hanno qualcosa di particolare, non so se voi l'avete visti, ma hanno una farfalla. Hanno una farfalla qui, tra i capelli, hanno una farfalla nel cuore, e io penso che ci sia qualcosa di particolare che forse lei ci può anche raccontare. Allora guarda, io ti metto il microfono, così tu ci racconti tutto. Possiamo alzarci? Ci mettiamo proprio qui nel mezzo, guarda. E così tu ci dici quello che la scuola ha fatto, perché voi avete studiato in questo tempo, siete andate a ricercare dei documenti, un po' come fecero quei bambini nel 2018, perché lavorarono tutti questi bambini. E anche voi, che oggi siete più grandi, avete potuto fare questo. Raccontaci qui. Noi abbiamo questa farfalla perché abbiamo letto la poesia di Pavel e la farfalla è un simbolo di speranza e di libertà, perché un filo spinato non può fermarla. E se volete vi leggo anche la poesia. La farfalla L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade su una roccia bianca, così gialla, così gialla. L'ultima, l'ultima volava in alto leggera. Aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui e mi chiamano i fiori di ruta e il bianco candeliere del castagno nel cortile. Ma qui non ho visto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Sicuramente la conoscete anche voi, no? La frase di Primo Levi che dice comprendere è impossibile. È impossibile comprendere come queste cose siano accadute. Perché pensare che una persona possa fare del male a un'altra persona, sono convinta che tutti noi qui si pensa che non possa succedere. E invece succede. Quindi se comprendere il perché sono successe queste cose non c'è possibile, però c'è possibile, è obbligatorio, è necessario conoscere questi avvenimenti affinché non accadano più. Il mio ringraziamento va anche alle insegnanti che comunque hanno voluto condividere con noi questa giornata. La dirigente scolastica che non è potuta intervenire ma che ci ha salutato, saluta anche il sindaco. Quindi grazie davvero di cuore e all'anno prossimo con le prossime quinte. Ecco, una storia che tu hai vissuto da ricercatrice ma l'hai vissuta forse anche come insegnante. Quindi per tramandare la memoria, no? Che cosa significa oggi, ogni anno, ripetere forse la stessa cosa ma ripeterla perché ci sono bambini nuovi. Loro quest'anno lasceranno la scuola primaria e andranno nella scuola media inferiore, no? Sì, è stata una bella, secondo me, una bella iniziativa, quello di ripeterlo, quello di mettere anche la targa perché è bene anche chi passa qui davanti che mette l'occhio, si chieda il perché. Perché certe storie sono arrivate a noi, a noi anche adulti, dopo tanto tempo. Cioè è stata quasi una scoperta per caso perché c'è stata questa, come ho detto prima, questa indagine tra i genitori a chi avrebbero voluto intestare la nuova scuola e una famiglia ha proposto questa storia che è sembrata a tutti molto particolare. A me mi hanno fornito i documenti, ho cercato di ricostruirla e sono rimasta meravigliata, sorpresa, nel senso che non si sapeva niente. Io non sapevo niente, non la conoscevo e anche chi la conosceva questa storia non gli aveva dato l'importanza che forse aveva. È un'importanza che questo dell'aiuto reciproco, questa storia di questa famiglia che ha aiutato, pur sapendo di rischiare la vita, persone a loro praticamente conoscenti, ma estranee, pur di salvarli dai campi di concentramento, pur di salvarli dal dolore della guerra, che si rinnova ogni anno in queste situazioni di continuo guerra che scappano da tutte le parti, di bambini che si vedono uccisi, violenze. È importante risensibilizzare continuamente i bambini a quello che è successo, a quello che hanno fatto anche gli altri in passato per cercare di dare un aiuto, di aiutare chi si trova in difficoltà. Bello il fatto che si sia ricordato che il paese nativo dei miei nonni si sia ricordato di loro e comunque che si sia ricordato proprio del gesto che hanno fatto, ma soprattutto di loro come persone. Questo ha reso fieri noi, ma penso un po' tutti i cittadini del territorio perché sono di Subbiano, Subbiano, Capolona, comunque sono di qui. C'è una sensibilità maggiore secondo me in tutti perché gli anni dopo la guerra io l'ho vissuti, ma della guerra non se ne parlava. Il mio babbo mi raccontava degli episodi di quando era militare, però erano come delle piccole storie quasi slegate dalla guerra e invece sono successe delle cose che sono grandi e piccole, ma grandi storie all'interno della storia grande perché comunque non saranno stati soltanto loro, chissà quanti lo hanno fatto e non sono stati neppure valorizzati. Insomma, si pensa a Bartali che portava dentro la bicicletta i nomi di chi si doveva essere salvato e quindi sono piccole storie che poi sono venute fuori, ma lontano dalla guerra, quando ormai della guerra non avevamo più neanche tanta contezza, insomma. Però le immagini che si vedono in televisione queste storie ti fanno riflettere. Bravi! Bravi! Ed ecco qui, oggi questa targa rimettiamo la nonna Gianna al suo posto e la zia la rimettiamo qui che possano guardarsi e guardare anche i loro genitori e soprattutto quando qualcuno passerà qui vicino dirà chi sono questi due che hanno fatto giusti tra le nazioni o che avranno fatto e allora forse andranno a scoprire che aiutarsi è anche bello. Questa è la cosa più bella. L'amicizia, il sostegno. Grazie. 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 Grazie.